riusciamo a custodire e tra parentesi non riusciamo a custodirci neanche in un'indiazione per cui in realtà anche le potesse con quello che viene detto e non è vero che non è vero che non è vero per garanti questa salute che fa io mi amico chiaramente la solista non è vero ma non è vero che è vero possiamo essere diciamo così costruiti come i mediati ci vuole questa mente e noi potremmo anche fare la luce in tante cose Vediamo il Papa e l'arrivato tutta grado. Vediamo. Dio Onipotente, il Senco Gesù, guarda la nostra gloriosa condizione. Conforte, concini e auto. I nostri voli e le speranze, perché sentiamo, in mezzo a noi, la tua presenza, il Padre e il Padre, il Cristo, il nostro Signore e il Marco. Ha visto che le ho qui? No, 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 no. Il Papa è un po' di 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 Grazie. Ah, finalmente, visto? Sto su YouTube. Provvedi? Non mi vedi live su YouTube? Tsunami Creaver, no? No, Pietro De Luca. Te lo mando su Twitch. Eh, su... Come faccio? Ok. Ecco. Ecco. Siete bene, dai? Siete bene? Sì, sì. Oh, vado appena un attimo da mangiare. Anche io arrivo subito. Stacco la live. Anzi, non la rimango. In modo che vedono se si vede bene. Arrivo subito, ho detto. Si sente. Si sente. Mi destra. Non dico la risposta. Ci siamo trovati. In ovi. Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti 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 Parla Grazie a tutti Grazie a tutti Papà Grazie a tutti Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Yeah Tony Grazie a tutti 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 perchè c'è mai in cazzo non li potete farlo, vedi? Vedi, non c'è mai lì C'è, c'è il primo Ah, c'è il primo almeno, perché non si muore? C'è, non ci rendo deserto Ah, c'è il primo Vabbè, non sento nemmeno parla, come fai venendo deserto? C'è il primo C'è il primo Ti vieno parla Tu vuoi che sta allontanato? Vabbè, voce, vabbè, ti vado in cazzo no deserto Vabbè, vabbè Oh, dove vado in cazzo no deserto? lui lui come on tu mi chiede il corso di fuori lui si è andato non so 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 Mi sento! Mi sento! Mi sento! Abbiamo il mucosello con me! Mi sento! Sono qui. Sono qui. Ma stai su qui. No! No, sai tu e Michele? Lei sei un giro. Io ho Emanuele e... No, è Fonz, però non c'è più Fonz, ne hai chiuso Sono qui, sono qui Ah, ho preso Ma che cazzo fa? Siamo a sparare Cos'è premessa? Ma chi è che ha build così veloce? Ho preso qui È forte Foghi No, è un il mio video è una manuelina, uno è un il mio Il mio video è una manuelina, non ci riuscite Ci sono una manuela, un po' Ci sono in prima mano, va bene C'è un nuovo parametro lusso L'hmmm Ooi? Stai a fare un'altra mira In mezzo Poi me ne avevo. E' un altro giusto E' lo vuoi Allora? Stefano! guarda re uai c'è quanto sei perdo oh ma guarda che non mi spara non sa re tutto parte frate ma tutto parte oh oh grazie è qua manuello a terra vedi non guarda nemmeno uai uai chi è? a reto! a reto! non c'è la miseria ma noi adesso un pochino tutto è assato a reto non mi darà il sodio mi spara non ho guarda 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 OVACIISTO Sono vammottigli Lo pratico Dillo Forza 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 A terra Nooo E' fai un altro E' l'ho Non è morto 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 Ferma Ma non stanno stiamo così Mi chiedi in latina Mi chiedi in latina Non mi chiedi Ti è in latina Oggi c'è ma C'è ma C'è ma Non è morto Ci sono Non è morto Ma c'è questo Mi chiede in latina Abbiamo Noi E' un terzo oh man è proprio stuporato al da reda ma perché mi rimane la mira mi rimane la mira mamma co culo frate no il 1907 suonos un aspetto a tutti i 25 e non ha dato un po' in reale perciò che c'è l'arri attacchi 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 Oltre dove non è giusto Ah, non so questo Ok, hai fatto una kill, tu, guarda. Go. No, zero. Ma che sei, ne te, go. E' zero. Eliminato sei volte. Ok, hai fatto una kill, hai fatto una kill. What? No, 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 no. Oh, no, 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 no. C'è un dui. C'è capra sempre a tuviù. ah è tutto giù da me Ah ma te faccio non mi droghe Oh vedi, se poi vamo 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 Oh vedi, vamo 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 no perchè mi serve una mano, ma immagini beeeella no, non lo faccio no, 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 no vale, volete no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no Ma dove sta? Più scherzi. Ma dove sta? 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 Alla prossima asci mi drog fassai Sì No che culo Guarda il saldo Aldo Guarda il saldo Oh È stato 3 anni Sì sì Io non sì Un magno no 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 qui non a quel termine l'ho che effetto 阿 li l'idea l'enche che l'ave 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 no ok oh 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 fallo usci fallo usci asciut asciut ci trovo va ci amo a red a red ciao amore mio hai tornato un po' su l'headshot qua eh tengo la mira buona frate nooo sono un cheater sto imbrogliando c'è il programma che devi devi cheat oh farò una mia no 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 che no 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 oa quando la c'è in cimona non c'è un kille, non c'è un kille Scusatemi ragazzi, buonasera Buonasera Guardi, comunque frate ti fa paura E' più forte me Oh mamma, mi fa pressione Ma finito non ho fanno E' un turno No, come a me Bella, bella, bella Eh, bella un cazzo, pico Cati, ma vado pazzia, che vado Io sto trascendo, non vado a scassare No, tu, frate Vado pazzia, perciò sta lupando No, no, perchè non fai i combi Perchè sta lupando Che vado No 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 Meno male Chi è contento? Angelo Falango No 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 c'è il cibo, c'è il cibo, c'è il cibo guarda quando c'è dentro io ma c'è il cibo, c'è il cibo tu stai con il cibo tu stai con il cibo oh che vamo che vamo c'è il cibo che vamo stiamo inizially e il cibo il cibo nella cibo c'è il cibo ecco ecco ma chi non ci può c'è il cibo c'è il cibo ecco Che c***o che c***o vuoi sapere quante tiri? Ma Pietro, Pietro, ora stai tranquillando e sto prendendo Sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì 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 Vieni a casa, Kingo Bene, come ho già fatto? Come ho fatto? Avevo fatto il capello rosa Piola, piola Perché non sapevo che non si potevano cambiare il piano Bravo Vieni, prima che ho messo 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 Giacca We weee Lui lo sembra Un pecconde Chi è? Quando cazzo loro stanno vicino a me? Ma chi è questo? No, non lo so Ciao il metro Ma non lo so il metro E' già morto Ah, mo capito Ehi Mamma mia Oh io vengo subito, due minuti e vengo Che feppene tuo microfono due frate Cosa 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 No, non è brutus Si, ho aggiunto tre contro due Oh mio dio questa è in bestia Cosa Non siamo chiedi la nuova Hai visto? Ah, non l'abbiamo caminato Non lo so Ho cominciato Mettiamo qui Cosa, il resto è il genere Mi sono solo Mi sono sempre Il resto è un genere HaiUTO... タ ritirnci ta vedno TRIRAN ler Mi Ah il a me! a me! a me! a me! a me! a me! Katica Per casa a dormire Grazie hang on ma già adesso è stato bene ma io ho lupo niente da nessuno ho fatto una ragazza ma stai Todd blu è magnissimo vengo pochino e sciogliere poi o meglio già passivo programma bellissimo Oh, c'è la giocina! Oh, c'è la giocina! Troppo bella! Oh, c'è la giocina! Oh, c'è la giocina! Sì, è pure Mario Cuomo! Guardi che basta vincere! Mario, non mi ha già fai fuoco! Eh? Andiamoci a fare il coppio! Andiamoci a fare creative però che era la uno contro uno, in due deserti! Aspetta, sto parlando! Non si capisci niente, per te! Eh, ora andiamo! Cati, dove stai ora? Io ora ora ho già picciato anche un po' E' il giocino frate, ma ora fa un po' Sì, non si capisci! Sì, non si capisci! Sì, non si capisci! Oh, Mario! Oh, uno sta qua! Sì, non si capisci! Ehi, ciao Mario! Cura mamma! Oh, c'è il giocino! Ciao Mario! Oh, io ma ci ritrovo ancora! C'è il giocino! C'è il giocino! C'è il giocino! No, non mi sapevo dove stai! Non mi sapevo! C'è il giocino! C'è il giocino! Oh, mamma mette! Desert Zone! Nia cosa! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Non, no! Il giocino! Il giocino! Il giocino! Lontanata No, no! Mi stai invitando Sam No, io ti invito una volta Poi ho fatto così Ho avuto 100.000 invito Scusa, Fran No, l'ho fatto più C'era che hai espulso il cadello Guarda, ti sento una chiave Ma pure io, Fran Ti sento proprio così Eh, pure ti sento così, amo Catello chi? Ah, ok Catello, invedisci qualcun altro Ma c'è l'onna Voglio, mi ce fa una scuola così cattiva Ma chi è Thomas? Thomas ci saranno Ma perché tu mi rai la banana? Non mi volevo mettere la banana, aspetta Voglio, ma che cazzo succede? Sento tutte le voce robotiche Eh, pure io Dimmi una, aspetta, fermi un attimo Sì, sto streamando Dimmi una cosa Catello Eh, cioè, Thomas, tu che catello non combusti Robotico Parla, Catello Come senti? Eh, buonasera Sì, lo sento così Eh, allora non siamo noi, ragà Com'è? Fate stare a Tommaso Usciamo e fate stare a Tommaso Aspetta, non morto Come senti bene Electro Sì, lo senti bene non si può fare no va bene questo nome la mi piace mi piace troppo ma cosa facciamo? ma cosa facciamo senza robotico? no senza robotico frate è pure io la live è aperta che tieni? la live è aperta e credo che non devi parlare comunque facciamo un nuovo è uguale a te sì pietro prova mi senti? è uguale ma scusa sei bugato sei bugato non è una partita vai a squadra ah brava perché prima ti senti mai non è ti è magatelo king è sta con Mario mi ha fatto desert zone se no e vai mi ha fatto desert zone ma questo non è non è ma ci fai con un altro gruppo lotto ma ci fai con un altro gruppo lotto Tom? parla Tom? parla Tom? Tom parla Tom? scusa te l'avevo mutato non lo sapevo ti senti robotico a te tu come mi senti a me? eh pure io a te sì invito al gruppo a cadere l'accetto come te l'afp scusate come te l'espo come te l'am unters Jung! ma te l'amorsila guarda come te l'amorsila e vabbè no mi senti che che mi senti e buono buono e ti senti robotico a te parla prova prova mi senti mi senti? guarda guarda è brutto maschio guarda entra 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 ok ok ma cosa fare? squadre squadre era la mia cabina armadio è stato male sei no non sei è stato male che figlio è stato male nel caso non è solo male non è stato male non è stato male te? questa cazzo è live per la fastidio qui c'è azzicca live? ma sicuro qui c'è azzicca infatti scusa se io perciò agit catello parla e Tommaso non è perchè se io per esempio vado in discord con Tommaso lo sento benissimo capito? non lag niente ah cazzo è un mostro cazzo è un mostro cazzo è un mostro oh cazzo è un mostro se viene più tu? ah ma cazzo scendere forse tu andavo da lì solo eh non scendo io solo ma vuoi accattare le mostro? dai fambè se avete bisogno chiudere prima che non chiude oh mi vengo a prendere la roba eh non mi vengo a prendere lì eh ma se tu hai chiuso che c'è sotto la serrana è venuto a Bacchini ti sei venuto in vostro panottato eh per forza oh ma ne prendo due o tre ah ha chiuso ah ha chiuso proprio vi aspettate già staccato tu cosa è cazzo dai coder forse è chissi aspetta un attimo fero cazzo mi sentite? si ah cadete? viste che è? cadete? è rude cazzo è sotto la televisione ho picciato partemene appuntata a manegu mi senti? si 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 sempre male però ti sento ma pure io mi sento male voglio prea chat voglio perchè il gioco non mi sta laggando a me no eh eh se è bugato Fortnite è bugato ma pure tipo nella live si sente così no per questo no per questo voglio non riesce voglio quando stanno unito sugo freno ero là di indus non cazzo ha capito di indus si è bugato tutto coso brava ne avrei 50 ne avrei 50 ne avrei 50 si voglio pure la live si sente così a te le pupi eh eh 4 più o meno 4 eh e può pigliare e può pigliare 4 la mia guida è sport la tua t ok ma c'è mi sei accanto ma ma non sto volando ma ci vanno mi stai inerfando eh era un po' che accompagna franjish che ho portato i zoro tu ma è Oh, guarda! Guarda, ce l'ha portata subito, guarda! Quanto sono? Guarda, ce l'ha portata subito, guarda! Adesso, non c'è un segno intero! Oh, vero, no! No, intero no! Viene da pizzeria. Chiuso? Ah, ancora! Eh, allora, nero ci manda l'uno. Sono 9€! No, sono 6€! 6€! Troppo pure 1€! 9€, ma! Devi 6! Ma sicura sta 1€ e 5€! Tu, ma ricce lo chiesti 10€ da un'ora unici vuoi in un'ora un buco, cazzo! Monello! Tu, ma che la c'è risolto, ma mamma da te! Si vede il cazzo muri? No, il piglieto! Monello! Ah, vagabundo! Che so io! Tomm, ti mando pure il cazzo muri da te! No, non un pompa, ragazzi! Io c'ho un pompa a un attacco blu, qualcuno lo vuole! No, no! Mi sta aiutando un dubbio, Tomm! Si! Pad, da che cazzo non si senti? Che senti? Che senti? Che genere di musica? Vadove, vadove! Vadove? Vadove, vadove non più buono! Vadove, Vadove veglia la maschera russo! Si, si, Ligabue! Si, si, lascio rossi! Ligabue che se cazzo senti? La maschera rossi più che... La maschera rossi, ah? Si, sì, Ligabue! Si, Ligabue, frate! Non puoi essere... Non ci ho vedere che però... Di solo Ligabue, se metti il cuffio, se senti il canzone, capi? a posto no non lo fa no 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 mai si è chiamata la canzone che vede da lui no dalla canzone non l'ora è una marea e che cd da mare e giusta è la canna che pareci pure strunzata grave mamma si senti come si chiama diretti famoso posto per quanto riguarda come ti chiamano il lucro di metri leggo l'opin amato mamma ai figli poi mi arrabbiata rispettivo con il gioco di corretta posto di scelte del gruppo atto ma c'ha fatto se andata sopporto che dice lo fate ragazzi se mi vuoi in macchina poi per il tango di cd come il pop sarà forza rossa ma si sente robotica scrivere a varone giovanni e che gli avversi sono gli avarone giovanni benvenuto e gli avversi mascia mascia grazie per la sub iscriviti al canale ballo iscriviti al canale mascia dai non farti pregare chiama giovanni e chiama giovanni chiamai giovanni, chiamai un po del leone, fa leone in live vogliamo vedere il suo gioco ma che domani sempre è una live eh devo mettere una fia così quando sei monella ma mai così posso vedere i momenti l'aria scrive solo a loro si sente male quindi a te no credo a me non mi sente è normale perché io sto con il microfono acquisisce il mio microfono quello che sentono loro giusto giusto gg per te grazie grazie chi può portare un medic? sta qua ragazzi chi lo può portare o io tengo una pozzetta 4 e 1 io vengo per pozzetto una pozza grossa qua anzi la pozza rossa dammi la piccola a me la pozza rossa la pozza rossa carretto sei lì ha detto giovanni ciao giovi buonasera ragazzi mi ha contattato mi ha contattato l'uomo più forte di fortnite tipo anzi si è lui il cerchinatore il cerchinatore seriale diciamo dai mamma mia quello che fa le cerchinate da paura quello che puoi fare le clip bravo ragazzi io non vorrei essere esistente ma secondo me dovremmo andare in safe uè pietro non inserire pietro mamma mia c'è il cerchio tu mamma stai andato in capo mamma tu tu mamma wow pure wow una bianca e una pantino rossica te wow c'è anche una pozzetta che stai mostrando ragazza la nera no sono certe grande mamma ma c'è la nera da ma si qua sei un mosso a me meno di nero per favore fa buono mi menevi io allora tu 4 a me vediamo non so quante non le ho contate è una busta chini e monster però fa una foto e fa le soffrire fai una foto chi è il più forte non ho capito bene c'è tu giovanni ah è una mano a fare cosa filippo leone è il più forte del mondo domani deve giocare con ninja giovanni power ha chiamato a filippo per qui volevo un po' di lezione ha detto a filippo non posso adesso sono impegnato il cerchino fa impressione ma non scupa anche da 300 metri con più c'è le persone la faccio la foto devo correre in ciasc non c'è non c'è oh vai giù per qua oh vai giù c'entro cao ah no sono giù che cosa però se non può finirlo qua vai giù stai safe però cao e io sono giù rindato la safe qua lipo me sta raccogliendo ancora i denti da terra vai queste sono parole pesanti che accuse comunque vedi che la live rimane assumiti le responsabilità eh eh infatti eh ooooh con filippo non si scherza mica eh eh infatti credo di poter ranger oh io ma che sono ah io così i bottini oh ma schissi frate ci ha avuto fratello puoi non rimanerci iscriviti oh no 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 oh yes creative è loo Buonasera Ragazzi mi è arrivata una benedizione su whatsapp Ora sono salvo Dicono che dobbiamo benedirci l'unico gli altri Per questo ti benedico nel nome del padre Del figlio e dello spirito santo E benedico te col cuore, la vita e la salute Sono salvo ragazzi, voi siete morti Mi dispiace No, no, non la condividerò Non la condivido con voi Mi dispiace Giovanni mandaci una benedizione Grazie Comunque voi non so se l'avete vista la bella Io no, purtroppo, la sono aperta Io l'ho vista perché mi hanno detto che è un elemento evocale Quindi ho detto ci devo No, io no, perché stavo facendo un carico di qualcosa illegale sul GTA Lo devo raccontare ai miei nipoti come se io sono un eroe in trincea E' lì una cosa che ci poteva salvare da me Io sono leggenda Esatto Sì No, se a noi facciamo un film di World War Z, no? Come Eurismith Eh, io prima dello scritto ho fatto ma questo è ambientato in un futuro post apocalittico in Italia Qua giusta Qua giusta fa loco Faccelo può fare, dai Dello scritto un commento prima, non l'ho detto, fratei, già ti siamo dato la testa e già non leggi più commento Oh gente Oh dove? Oh dove? Oh dove? Vai da me Guardiamo un grenade Grenade! È sceso È sceso Ma che è sceso? Ma che sta sem? Eh, non ha beccato, non ha beccato Non lo vede però Oh 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 oh... Eh boh 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 Ah, mi ha scato, non mi ha lenato Ma ho scusado Bisogna, non mi haけれva Ma per esempio, ancora un metro Corso Ma per esempio, non mi ha šito Oggi Sì Si è morto Sì, sono scendo Sì, sono qua da me Ottimo Prendetemi la scheda Cosa è la scheda, Thomas? Cosa è su questo? È l'armorù, bastardo Oh, cazzo, l'asile Oh, io spara bene a cadere, 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 io spara bene Aspetta, eh, vi leggo, sei pozzetto, non posso per salvare Oh, non, la c'è più Cosa, c'è più Cosa, se il giro, non importa La penna boi E' come mia madre via alla misa, tu amore. Aspetta un attimo, mi sembra che ho fatto questo ponte Qui mi trova bene pure tu, come ho fatto un gruppo Ehi, ecco l'ultimo ponte, ciao baby Wow, bellissimo survival Bellissimo Il meme? No, bellissimo Monster L'ha visto, non l'ha capito Ah, spero, non l'ho capito Non l'ho capito Ah, sì, bellissimo Pornhubbaprof Diziano che non potevo fare Tom, ho, voglio quattro nere Sono avversiva, va bu, no? Se calmo Oh, Tom, sei pronto a rientrare? Tom, perché sei così razzista? Sono pronto a rientrare, sì Ah, no, ferma Sto mettendo le mostre in frigo Oh, come ho? Ah, Tom E' qui? Oh, come ho? Sono cinghese, cadena un mabichino Viaggiarla Sei un pazzo, fra Sei un pazzo Non va bene così Non so, ragazzi Oh, catello non conosce quel meme C'è una madre C'è una madre C'è una madre Ficci veneri con l'attrice Ah, sì, sì, hai visto Hai visto Ma la so Che cosa ti vedi la sera? Crattoni animali, spongebob Ragazzi Va giù Finatemi, bene, per il materiale Oltre pistole bianche Non credo, che posso fare tanto Oh, eccolo! Il cecchinatore perfetto. Oh, sono la cadena per Cadeva, state venendo con me. Sto facendo riuscire sulla mele. Io non ho armi Ma non sta, Thomas. Ragazzi, vi prego Thomas, ho qua. Ragazzi Thomas, vieni qua. Aiuto. Thomas, ho Aspetta. Il demonario è reale, non c'è niente. Buonasera, caro. Ma non sta, Thomas. E' anche lui, robotico, comunque. E' lo so, l'ho sentito. Hola, hola, hola a tutti. Stanno qua sotto, oh, io. Stanno escivassando, mamma mia, l'ho guarda. Sì, ah, è safe. Stanno venendo, comunque. Stanno escivassando, oh, io. Eccoli! Abbiamo problemi con Fortnite. Oh, io stanno qua, eh. Eccoli, c'è il leggerazzo proprio da me. Mamma mia. Mi sento la chiave. Poi dove state? Qua, Rosagin. E' pure da me. Vi dovete preparare dei colpi bomba. Ma ora hai giusto qui sotto? Guarda che accade a me. Guarda, che trovate. Mi ha distrutto. Mi ha distrutto. Mi ha distrutto, oh, io. Ah. E' già morto, oh, io. Mi ha fatto trasciare solo a me. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. È finito i materiali. Ti ho detto, tu sei da male. Ma ora l'hanno, la squadra, mi torna alla lobby. No, no, c'è, c'è. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quanto è l'u-lion, la mano. Oh, quando c'è la gangbang. Vuole dire qualcosa, è un vuole mio. Ma io ci vanno a dire il Javarone, dice, vabbè, ma ci pensa il re leone. Sì, 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 sì. Già so tanto. Basta che troviamo un cecchino, glielo diamo, e siamo un po' sotto la partita. Abbiamo vinto, ragazzi. Già so tanto. Basta che troviamo un cecchino, glielo diamo. Basta non sotto la partita. Ma cosa sta succedendo? Voglio comunque qua, eh. Poi facciamo una cosa. Riavviamo tutti Fortnite. Ok. Dopo questa, dopo questa. Dopo questa. Ciao, Filippo, buonasera. Filippo, come parlano di te? Filippo, ci puoi fare un attimo all'intro? Ci puoi fare un attimo all'intro della live, per favore? No, non vuole. Dai, ah. Dai, Filippo. Perché non vuole, perché non vuole, è timido? Eh, non vuole, non lo so perché. Dai, Filippo, per favore. Allora, ve lo so. Vieni qui. Sì, frate. Mamma è una snitch. È una snitch. Paola snitch. non voglio paolo e nel game non voglio paolo e nel gang ah ma che corso? ho brughi e brughi brughi dai sbrughi sbrughiani Sperrugiani Sennò non va buona la live non fa buona la live no fa sempre buona cosa come la live? come lintro? eeeh no, stavo sull'ist, hai capito? ah stavo buona ma fa sempre quando non siamo in live ma come siamo in live? bello a tuuuutti ragazzi, come si dice? no 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 fa bello, è fluido sembra di morire lintro ciccio gamer è un post diventa la sua però no imitazioni ottimo, ho trovato un bomba molto goloso cattivo ma non mi vengono alzata non mi vengono alzata non mi vengono alzata scuta 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 chi è che il lagga tutto? chi sai per misericere questo? ho lì uno, ho lì uno ho lì uno, non ho andato, nooo questa è la prima parte di oggi un accenno un accenno un accenno vai filippa vai vai va bene filippa filippa ci mettiamo tutti dentro ui, niente da me aspetta è scena come o si non fai mutirle adesso filippa ah fatti due e mei bot vabbè la fa clip adesso bot guarda qui salta l'acqua tre oggi ho posato due medici perchè ho sparo a bender ragazzi io ho pozze piccole e pozze grandi chi sai da fu là? io niente o niente chi viene da me è fu io non porto niente da nessuno io sono vicini a te me ne manca uno guarda dove sta? vieni qua lì lì filippo oh filippo tac blu ti lascia tutto vicino al tac blu poi ricevendo olio è bene filippo golosa queste 3 kg oh è meglio da l'augo questo bello ragazzo fatto ragazzi lio si è apposta da roba da girare come? che ritmo come? ma che ha detto lio? che si eh da fu poi io chissà da fu l'anna da vuote venga da vuote venga da vuote il kit di full sempre io eh si sempre si viene da fu eh vieni capitano sono aspettate ma se dove me lo sbatto pupace vuol essere un barretto ottimo poi sono con i medici comunque poi mi piace un po' l'altro tutto questo comunque c'è un altro ma cosa serve una mano? fatemi ragazzi è bella roba, è interessante non mi serve aprire subito un bar sono tre scudini, una capa viola non mi hai fatto giocare a felipe non hai trovato barretto, aiuto sai che ne scerano greve? infatti che cosa? sei botak blu? sì, lo so ne scerano greve eh cavolo, ci vediamo tre medici ci sono scudini e puzza cinquanta io ho sei scudini oddio, cosa è che sto facendo di assalto pesante? lo voglio è una grappa c'è la grappa oddio sì, la grappa viola ma chi si stessi pesurisca? mi puzza godo 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 guardare, ho gli scudini e le pozze grandi non lo so che dirvi non lo so che dirvi io ho sei mini io ho sei mini io ho sei mini pure io e ho due pozze grandi non lo so che dirci il dino non lo so che dirvi caci sanato, voglio le pozze rosa io ho sei mini e due preribba pesci è un pesce quanti pesci hai Filippo? non lo so sono gucci voglio io non lo so che Zeiffo sincero sono gucci ti servono colpi di assalto guardate no, no ne ho duecento e pass ne ho quattrocento ma io ne ho quattrocento vabbè vabbè ma a me servono quali colpa mitraglietti ne ho trecento cacca blu ah eh, sono arrabbiati come sento l'arrabbia nel loro dito ah, è un leone è un leone è un leone che ha bussato sì, no, non ero io sì il lion il lion king ah, il lion è stato bussato ma un po' per l'angolo è diviato aiuto eh, buonasera eh, buonasera cacca blu sì, ma che è stato bussato cacca blu ma che bomba tenete? no, no che bomba fiove? cacca blu cacca blu cacca blu cacca blu cacca blu se lo prendi in capo e distrugge il suo bomba fiove ma lo spazio sì, ma che guarda thomas bel fucilone che c'è in mano ho visto non è che lo volessi porgere nelle mie mani no, no là c'è una piattaforma di dancio piattaforma di dancio chiamola ma c'è il canotto chi è che scrive i messaggi con quelle dita grasse e unte ma che stanno facendo le furie tu aggiungo? sì perché non le sai c'è pensato che eravamo che si era buggato perché avessi grasciato c'erano queste cose a ferire ho capito questo eh, per questo sono infatti ah, ma che stanno manzi può succedere tutte cose oh, c'è un po' eh, c'è una moping a tre ore fa pozza cinquanta quando le posso portare? sì, tre oh, baule oh, io ho capito l'inventario da endgame all'agensura proprio all'agensura della sedia all'agensura della sedia questa cosa mi puzza chi è che si fa una pende? io fra sei un po' forco sono 99 di vita questa cosa mi puzza ah, questo è 98 ma adesso è Tommaso sono il cespui ora non mi vuoi due ma non mi vuoi due eh, se non dovevi che tu cespui posso vedere Tommaso posso vedere Tommaso posso vedere Tommaso ah, ora si oh, ecco lì con il motoscafo là lì, oh hai visto sì, hai visto voglio, pushiamo pushiamo cattivo voglio, tu quando sei eccolo sta andando là broschi voglio, ma mi sto pushando dove ho pingato bro preciso no, no, a piedi a piedi a piedi ah, l'avevo visto pure io salta, salta, salta salta vieni ma non Gesù che fa? ma c'è gente anche là no, gli ricordi no, gli ricordi è evitato è evitato è evitato è evitato ragazzi buonasera guarda, cazzo dai, Tommaso eh, gente dietro l'ho vissi ah, io ma c'ho vissi oh, no ma c'è uno che cespuglio, aiù c'è, vai c'è da me via vai, io una terra sono che cespuglio non mi vedo sono qua una terra l'ho messo come, finca, dove? la, la lo stanno va, vai, non si abbandona nessuno vai, vai, non si abbandona nessuno cazzo, è rotto dai, puzzè no puzzè no, puzzè no puzzè te ma cazza sì no, puzzè no tengo, ma qua, va bene non faccio mai di tutto cosa sta succedendo? ma è mutile di la mamma qua, raga un attimo e, ma distrutto why you maronna mi ssssssss che state facendo, ma che fai questo spara ben da mano tu, stai sparando a Filippo, attirato attirato, attirato aspetta copri Tom, copri, Filippo, te li faccio vedere come terminate come terminate ma io, piada cosa mi interessate, ma che è stata la macchinetta log proprio prima che saremmo in safe ma io è scutini, ragazzo, a piada ma io, è stata la macchinetta log guarda Filippo, guarda Gesù, Gesù, Gesù Filippo, sta qua Filippo, la roba vai, io sparo con sparo bene vai, dentro qui oh, è metterà a jump no, io non ho la jump la tengo, la tengo la tengo, la tengo Filippo, la tengo, la tengo la tengo, la tengo, la metto qua dove? fu, fu, fu fu, fu eh, prima è prima cambia direzione non ci sta, non ci sta cambia, cambia 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 direzione ma io mi servono i colpi chi sappia dei colpi mi oh, cazzo, mi sparano sono due squadre no, troppe colpi, come qua colpi no, tutti non ci vieni ui vieni qua ora vieni qua vieni qua vieni qua tu hai un medico Aspè Lo voglio, è pochissima video Ha già lasciato No, no, no Non potete uccidere Ciao, cavolo Morti Cura mi, cura mi Ciao, fallo tu Faccio postette Forza 50 io Ah, ma mi serve Aspè, fammi vedere un altro Aspè È morto uno di qua Dietro, qua, qua, qua Ma Mannaggia, cazzo Ma non due Voglio, riavviamo un attimo Fortnite Si Sono tornato al lobby, sui Grazie 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 Grazie. 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 Come mi senti? Provo la mozzarella, provola. Tu ma? Non ti sento. Mi senti? Sì, ti sento. Eh, come primo, però. Robotico? Sì, un po', sì. Che palle, però. Sì, ti sento così, sì. Ma chi sta là? Ma scuso, se ci mettiamo in... Se ci mettiamo in Discord... ... 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 Dommé. Si. tommas tommas va giù? da me io ti sento a te ma tommas non lo sento non mi sento a tommas, non ho mai disconnessione che significa? è che sta attacando che sta? sta attacando? sta attacando sta attacando sta attacando guardate l'abbandonato ho staccato non sentivo non so dove ti aspettiamo? ti aspettiamo? ok ti aspettiamo? no no mi fa una coppia vai non ti aspettiamo? non ti aspettiamo che allucano vabbè la notte è lunga Tommaso se ci si vedi stasera gg stasera si nerda forte si 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 ma questo è venerdì che porta al sabato giusto? poi abbiamo anche il sabato che porta alla domenica che porta alla domenica eh si quindi sono due notti intense di fuoco eh si due notti forti ecco acqua acqua e ti va beh ma che sei la prima partita di giornata sono stato il primo a ringraziare incredibile mio padre intendo distruggere il tapirolan va bu parco qualcuno dice dove dove fanno quello che si scarsa ah tutta la mamma è Giovanna se ci stai guardando Giovanni ciò qua eh non lo sai qua qua che significa ma non c'è un'arma magari è stasore oh mi sparano i bottini da me come stanno un botte di gente come stanno un botte di gente oh my god il barret buona hai fatto uno da me dove sto cercando di venire ma sei lontano oh c'è un bo uno qua mi sparano ce l'ho qua niente francia uno di vita però ma cheese ah stengo non c'è una bella merda ce l'ho guardate dai adesso mi dico non c'è una bella non c'è una bella ma re leon oggi non è uguale ma vuol tra sud e si è nascito subito voleva dare lezioni c'è l'oguente roulale di un règle tra maurice però lì mi devo ecco il principe principe principino fattori si proviamo ora vizio sottotitoli ma fattori sottotitoli 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 sottitoli sottotitoli fatto fatto non so per cui sei adesso come va? no non lo vedo era solo come va adesso? ecco l'amico oh che buono oh stacca mi serve un'arma si deve pompa vai spiegaci un attimo kiss mi arrivano da me ok sono fatti da me sono giù qua dove 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 spot spot ah sta pigliando la cosa lo compagno secondo me eccolo ce l'hai sotto secondo me è un bot no non avversi entrati in casa eh non sappiamo perché le 150 mi era bot oh buona sto figlio di è una mignotta è qua m4 verde serve com'è? m4 verde ce l'ho ce l'ho o è il livello l'elicottero l'elicottero pushiamo? ah ci vediamo sei l'elicottero si però se l'elicottero te ne troppa vite secondo me è un'è? ci sono qua da me? aspetta se non è lo pusha oh boom morto? fatto 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 sì sì oh se andrà a romper alberi qua c'è un tacco di roba ma tu vai a rompire le cose sì sparabendaggio eh sì spero spero mi porto sto medici ci facciamo l'altro sparabendaggio che è un'elicottero? no mi ha distrutto pisa l'elicottero siamo in safe sotto l'elicottero sotto là c'è la cazza ora c'è la cazza sotto quei cosi di ferro sotto quei cosi di ferro sotto quei cosi di ferro rompi 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 oh senti qua si rompi ah dove sei tu? come è possibile? sta sotto? che è un'elicottero ah è un'elicottero è un'elicottero è un'elicottero è stato matare se l'aria di martino ci sta guardando mandami un messaggio su whatsapp mandami un messaggio ok ci sta guardando ragazzi allora visto che l'aria di martino ci sta guardando volevo cogliere l'occasione per ringraziarla per le cuffie che mi ha regalato le mie cuffie del computer grazie l'aria oh c'è un duck blu qua a me sta laggando tantissimo a me sta laggando tantissimo non vedo perché dove io il duck blu? è un'elicottero fila risposta mamma chi è quell'elicottero? oh ma sta gente da te frate da me si si pietro l'elicottero è qua che ne pensavi di dirmelo? oh è rimasta la costruzione umana frate ma che stai facendo? tommi si 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 la vedo dura si 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 se si 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 Grazie. Ah, è ninja. Ninja, no, credo che è per da ninja. Ma che serve a fare... Ah, che stanno in colpa. Pia marona. Guarda. Bella, bella. Bella, bella. Ciao, bella. Grazie.